Siamo arrivati all'evento Cava ExpoTec, organizzato da Nepla, presso la Cava Merlini di Gaggiano. Il nuovo scavatore EC350 ENL porta con sé tantissime novità, a partire dai comandi elettroidraulici, che insieme al motore porta la macchina a un'efficienza elevatissima. Grazie ai comandi elettroidraulici abbiamo la possibilità di settare le priorità di movimento del braccio. In più, questa macchina porta con sé tante innovazioni tecnologiche come il DIGASSIST 2D e il sistema Active Control, che ci permette di avere la guida assistita per scavi e livellamenti e ci permette anche di farlo in maniera semi-automatica. Abbiamo la possibilità di impostare confini e quindi lavorare anche in aree pericolose, con la possibilità che la macchina si blocchi proprio all'arrivo del limite di lavoro. La macchina inoltre ha anche la telecamera Volvo Smart View, che è una vista a 360 gradi, per aumentare la sicurezza. Insieme a tutte le pedane antiscivolo, i corrimano arancioni e la salita per la parte alta della torretta con tre punti di contatto sempre. Altra innovazione tecnologica è la possibilità di guidare, quindi di traslare la macchina con i joystick, senza dover staccare le mani e di utilizzare le leve, i piantoni davanti all'operatore. Abbiamo colto l'occasione oggi di presentarvi questa macchina in cava per la sua dimensione, per la sua efficienza e per la sua produttività. Insieme alle tecnologie presentate prima abbiamo a bordo macchina il sistema di pesatura. Il sistema di pesatura permette all'operatore di essere efficiente e produttivo, di caricare il giusto materiale, la giusta quantità su camion, su damper e tutto questo viene registrato dal co-pilot che l'operatore ha in cabina. Quindi ha la possibilità di fatto di gestire dei veri e propri ordini di lavoro. Inoltre l'operatore si trova nella classica cabina con tutti i comfort necessari e con un'ottima visibilità verso l'esterno. La tecnologia in cui descritta ci permette inoltre, in una grande cava con diverse macchine Volvo, l'interazione con tutte le altre macchine, con le pale gommate e con i damper, in modo da avere sempre sotto controllo l'attività e la produttività della nostra cava. Le nostre macchine sono sempre interconnesse. Grazie al portale CareTrak noi possiamo monitorare tutte le attività della nostra macchina. Come per tutte le macchine Volvo, gli accessi e le manutenzioni sono facilitati. Sapendo dei tempi tecnici di cava, abbiamo allungato gli intervalli di manutenzione e fatto sì che i nostri tecnici possano essere più veloci nei tagliandi e nelle riparazioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti